Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi leggiamo, parafrasiamo e analizziamo insieme era il giorno che il sol scoloraro. Prima però vi ricordo di lasciar mi piace, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Mi trovate come Diario di Charlotte. Come abbiamo già detto negli scorsi video, questi sonetti fanno parte del canzoniere di Petrarca, a cui abbiamo dedicato già una video lezione. Il canzoniere è una raccolta poetica di 366 componimenti e la maggior parte, ben 317, sono sonetti. Questo canzoniere è diviso in due parti, rime in vita e rime in morte di Laura e qui siamo nelle rime in vita. Infatti il sonetto Era il giorno che ha il sol scoloraro è il terzo sonetto del canzoniere. La data però di composizione è fissata dopo la morte di Laura, avvenuta il 6 aprile del 1348 a causa della peste. Abbiamo 14 versi, endecasillabi, due terzine rime incrociata e due terzine rime ripetuta con inversione. Vedete qui, abba, abba, cde, dce. Chi è Laura? Sappiamo che Laura è probabilmente una nobile donna francese, Laura de Noves, moglie di Hugo de Sade, che Petrarca incontra proprio a Santa Chiara d'Avignone il 6 aprile del 1327 e che poi morirà di peste il 6 aprile 1348. Vediamo ora la prima quartina di questo sonetto. Era il giorno che al sol si scoloraro per la pietà del suo factore erai, quando i fui preso e non me ne guardai, poiché i vostri occhi donna mi legaro. Era il giorno in cui al sole si oscurarono i raggi per la pietà del Signore. Questa è una lunga perifrasi per indicare un'eclissi, ma non solo, anche il giorno del venerdì santo e della passione di Cristo. Quando io fui preso e non me ne guardai, non mi difesi, dai vostri begli occhi donna che mi legarono. Vedete qui che abbiamo una metafora, mi legarono e vi faccio già notare il lessico bellico, quindi fui preso, catturato dai begli occhi di Laura che mi legarono. Il 6 aprile 1327, come dicevamo, è il giorno che coincide con la passione di Cristo, oggi rievocata con il venerdì santo che precede la domenica di Pasqua. Petrarca fa qui riferimento al racconto del Vangelo. Infatti, secondo il Vangelo, il sole subisce un'eclissi e si oscura proprio in coincidenza con la morte di Cristo, un segno di pietà per la sofferenza di Dio. I vostri occhi mi legarono. Secondo la tradizione del dolce stil novo, dell'amore cortese, vi lascio qui il video sul dolce stil novo a proposito, l'amore raggiunge l'innamorato attraverso gli occhi. Infatti, amore è un desiglio che vende a core, Giacomo Lentini. Lo vostro bel saluto è il gentil sguardo, Guido Guinizelli. Voi che per gli occhi mi passaste il core, Guido Cavalcanti, notate come il tema dello sguardo e dell'occhio sia centrale. In questa prima partina abbiamo trovato, come dicevamo, l'enjommo, scoloraro per la pietà, perifrasi, metafore e anche l'apostrofe donna, quindi si rivolge già alla sua Laura che è donna e che è domina, quindi che è signora. Tempo non mi parea da far riparo contro colpi d'amore, però mandai sicuro, senza sospetto, onde i miei guai nel comune dolore si incominciarono. Non mi sembrava un giorno in cui stare in guardia dai colpi dell'amore, per questo andai sicuro, senza sospetto, così le mie pene, i miei guai d'amore incominciarono nel dolore comune per la passione di Cristo. Allora, innanzitutto dobbiamo dire che qui l'amore è personificato, vediamo anche la maiuscola che ci fa capire che l'amore lo colpisce, anche qui il colpo dell'amore e l'innamoramento è una metafora e iniziano qui nel dolore comune i suoi guai d'amore, quindi i suoi guai, dunque le sue pene, anche questa è una metafora. Ora vi faccio notare questo mandai, secur, che presenta un forte enjambment. Quindi il poeta in quel giorno è privo di difese, in quel momento sembra escludere ogni pericolo, quindi non cerca riparo contro i colpi dell'amore, però le sue pene d'amore iniziano nella sofferenza dei cristiani, il giorno della passione di Cristo. Questo secur, senza sospetto, ci fa pensare, secondo il critico Gianfranco Contini, al canto quinto di Paolo e Francesca, a cui ho dedicato un video che vi lascio qui. Dicevamo dunque le figure retoriche in questa seconda quartina sono i colpi dell'amore, i guai d'amore, la personificazione, l'amor e l'enjambment mandai secur. Vediamo ora le due terzine finali. L'amore personificazione mi trovò del tutto disarmato, anche qui disarmato è una metafora, cioè del tutto indifeso e aperta attraverso gli occhi, la via del cuore, anche qui abbiamo una metafora di fatto, una metafora è anche una anastrofe come c'è in trovommi amor e la via per gli occhi al cuore aperta, però troviamo anche la metafora, no? Perché abbiamo detto che l'amore nasce dallo sguardo e poi arriva al cuore. Gli occhi che di lacrime sono fatti uscio e varco, anche qui abbiamo un'altra metafora. Quindi gli occhi, come dicevamo, che sono diventati la porta e il passaggio delle lacrime. Però al mio giudizio, ad amore non fece onore ferirmi, colpirmi con una freccia mentre ero in quello stato, quindi mentre ero indifeso. A voi, armata, non aveva mostrato neppure l'arco, anche questa naturalmente è un'altra metafora. Notiamo quindi ancora qui il lessico della guerra, no? Disarmato, lo stato, l'arco, quindi l'amore è una battaglia. L'amore quindi trova il poeta indifeso e raggiunge il suo cuore attraverso gli occhi. Questo è proprio un richiamo alla lirica di Cavalcanti, voi che per gli occhi passaste il core. L'amore colpisce Petrarca, ma non mostra neppure l'arco a Laura, nonostante sia ben armata. Cosa significa? Che Laura è ben difesa dalla sua nestà, non viene colpita dall'amore, d'altra parte lei è una donna sposata ed è una donna veramente nobile d'animo. Dicevamo quindi che troviamo qui diverse metafore, disarmato, occhi, uscio e varco, voi armata, non mostrare pur l'arco, abbiamo anche un'india di con uscio e varco, e infine la personificazione trovommi amor. In sintesi, nel sonetto Petrarca rievoca il giorno dell'innamoramento e stabilisce una corrispondenza con il venerdì santo. Le sue pene d'amore sono dei dolori vani, a differenza naturalmente delle sofferenze dei cristiani. Però l'amore per Laura qui è un ostacolo alla sua salvezza. Infatti tutto il sonetto è costruito sulla metafora della battaglia e della prigionia d'amore. Petrarca viene colpito dall'amore poiché è fragile e vulnerabile, mentre Laura no. Laura viene risparmiata grazie alla sua onestà e castità. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.